La ministra Lamorgese decide di nominare Maroni per guidare la consulta contro il caporalato. Il governo dei migliori, si sa, per sua costituzione e per sua missione deve tenere dentro tutti e la ministra deve avere pensato che non ci fosse modo migliore per rispondere agli attacchi di Salvini di queste ultime settimane nominando un suo nemico interno, come se Salvini non avesse già abbastanza problemi dopo il caso Morisi e dopo la pessima figura rimediata alle amministrative. Maroni, del resto, è quello che in questi ultimi anni non ha mai lesinato critiche al segretario della Lega, nonostante Salvini l'abbia inventato lui. Ve lo ricordate? Erano i tempi di Maroni che ramazzava sul palco per dargli il senso di pulizia durante le assemblee della Lega con una scopa di saggina e la Lega intanto era i minimi storici per i disastri combinati da Umberto Bossi. Disse Maroni al foglio, Umberto Bossi, stratega per eccellenza, aveva una visione, usava me come tattico sì, ma si capiva che guardava lontano e io non voglio certo parlare male di Salvini, però insomma qui la tattica rischia di sconfinare nell'assenza di progetto per il domani della Lega. Non a caso i governatori sul territorio non ragionano così. Sempre al foglio Maroni attaccò Salvini. Salvini quando si trattò di trovare un candidato in regione Lombardia, poi ci misero a Fontana e qualche malelingua disse che Maroni puntasse a un ministero. Accusò Salvini di aver usato nei suoi confronti metodi staliniani. Disse proprio così. Disse in tanti si affannano a dire che io non sarò ministro, ma chi vuole fare il ministro non pretendevo di sentirmi dire che sono stato un bravo governatore, pretendevo però che il segretario del mio partito non utilizzasse la mia scelta di vita per cercare di colpirmi. E poi l'affondo. Io sono un leninista convinto, uno che crede nella leadership, ma non avrei mai creduto di trovarmi di fronte a un leader stalinista. Qualcuno gode. Dice guardate che bello scherzetto ha fatto la Morgese a Salvini, si dicono, dannosi di gomito, come se il governo fosse una cosa talmente poco seria da poter diventare un cortile di scaramucce. Pochi, vedo, rimangono sul punto. Nominare in un ruolo così delicato, per quanto riguarda disperazione e diritti, un ex ministro dell'interno che diede il via alla stagione dei rispingimenti, contatto di condanna all'Italia, come nel caso Hirsi, un ex ministro che difese con i denti quella legge bossi fini che creò la sacca di disperati invisibili che sono il serbatoio perfetto per il caporalato, un ex ministro che voleva prendere le impronte digitali ai bambini rom, un ex ministro che voleva il trattenimento nei CIE per 18 mesi, scegliere una persona del genere è un'evidente scelta politica ed è una pessima scelta politica. Lo dice benissimo l'associazione Terra, che di caporalato si occupa da anni, che nel suo comunicato, ieri, scrive, destra stupore la decisione di istituire un ulteriore organo, oltre al già esistente tavolo caporalato, presieduto dagli stessi ministeri e impegnato nella stessa missione, cioè l'attuazione del piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo. Riteniamo infatti che la moltiplicazione dei luoghi deputati a dare impulso alle iniziative contro il caporalato abbia come effetto il rallentamento dei processi decisionali e quindi il raggiungimento degli obiettivi. La scelta della ministra Lamorgese, lo dice Fabio Ciconte, direttore di Terra, ha come effetto l'indebolimento degli spazi di democrazia, di confronto e di dialogo sul tema del caporalato, che ci ha visti firmare protagonisti a fianco dei sindacati e tante reti associative, nel ripensamento della filiera agroalimentale e nella tutela dei diritti di tutti gli attori del comparto. Affidare ad una personalità con la storia e le idee di Maroni, una presidenza di un organo che replica le azioni portate avanti in alti tavoli, renderà complicata la consultazione degli attori coinvolti nelle azioni di contrasto. Del resto, se ci pensate a Maroni viene affidato a una delle sfide più difficili del nostro tempo, il contrasto all'assfruttamento di quelle stesse persone che lui e i suoi colleghi di partito avrebbero voluto, anzi vogliono, espellere. Spesso residenti negli insediamenti formali che punteggiano la nostra penisola, sgomberati con forza negli anni in cui alla testa del Ministero dell'Interno c'era Matteo Salvini. Scrive Terra, la nomina giunge come un attacco netto a tutte le vittime di caporalato e anche a quelle associazioni come la nostra che nel corso di questi anni si sono spese con determinazione. Per l'approvazione della legge anticaporalato, un provvedimento criticato, deriso dalla Lega, che più volte ha chiesto di modificarlo, ritenendolo persecutorio nei confronti dei datori di lavoro e dei caporali. Che dite? Tutto bene? Con il governo dei migliori? Buon venerdì.